Si chiama Pendolaria la manifestazione organizzata dagli attivisti di Lega Ambiente per fare il punto sulla situazione delle ferrovie toscane e chiedere più investimenti. Qui siamo alla stazione di Santa Maria Novella, ma gli ambientalisti hanno manifestato anche in altri nodi ferroviari. Dal rapporto emerge che in Italia la Toscana è la terza regione per investimenti sui trasporti ferroviari. Nel corso del 2012 per le ferrovie sono stati spesi oltre 77 milioni di euro, lo 0,7 delle risorse. Ma questo non è sufficiente a rendere il treno un mezzo di trasporto competitivo. L'89% delle risorse per le infrastrutture toscane viene speso per le strade, mentre alle ferrovie va appena il 10,5%. Questo non ci basta perché dentro questo quadro di luci e ombre pretendiamo di più non solo dall'assessore Cercobao ma da tutta la Giunta perché credo la regione toscana possa e debba fare anche in questo contesto qualcosa di più. Tra i nuovi investimenti che la regione ha messo in cantiere per il 2013 vi è l'acquisto di nuovi treni diesel per le tratte della Val di Pesa e di altre zone della Toscana non elettrificate e l'acquisto di altro materiale rotabile per la provincia di Arezzo. Ma a fronte di queste spese ci sono tagli alla Firenze Viareggio. Ci sono addirittura 7 stazioni tagliate, ci sono 27 treni giornalieri tagliati tra Pistoia e Lucca e 17 treni quotidiani tagliati tra Lucca e Viareggio. Quindi una situazione drammatica.